Un momento importante anche per l'edilizia scolastica monregalese, da un lato i 10 milioni e 80 mila euro riconosciuti a valere sul PNRR per quello che riguarda la demolizione di costruzione dell'istituto Baruffi e dall'altro la nostra questione che noi proviamo a portare avanti relativamente al liceo che ha già uno stanziamento di 3 milioni e 600 mila da parte della regione. Si tratta quindi di oltre 13 milioni di euro di risorse, le quali se ne potranno sommare altre su cui stiamo lavorando per l'edilizia scolastica monregalese. Non secondario l'aspetto anche del fornire la città di una ulteriore palestra, 2 milioni e 625 mila euro di finanziamento, questi governativi a valere su un bando che fu promosso da uno dei governi precedenti che ci aiuterà a risolvere la penuria di strutture sportive non solo per l'orario scolastico ma anche per l'orario extrascolastico. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di arrivare a fine legislatura con il ridisegno dell'edilizia scolastica e su questo stiamo lavorando e proprio il 21 con il consigliere provinciale delegato San Nazaro incontreremo i dirigenti scolastici monregalesi. A che punto sono i lavori della palestra? La palestra è pressoché finita, abbiamo subito due rallentamenti più grandi degli altri, uno è quello dell'approvvigionamento del materiale, ormai è tutto arrivato, o è in cantiere o è presso la sede della ditta incaricata dei lavori e l'altro quello relativo alla fornitura del gas, ma grazie al rapporto consolidato e alla bravura dei tecnici territoriali di Talgas siamo finalmente riusciti a risolverlo. Proprio oggi sono iniziate le operazioni che prevedono il montaggio di quella che è una sorta di schermatura della struttura, della della palestra stessa e confidiamo entro il mese di marzo di metterla in funzione e di ospitare finalmente alunne e alunni.